Sì, un fantasma. Con le braccia, e ha cercato di mangiarla. Arrivo adesso. Allora, dove è il fantasma? Ho capito. Ehi fantasma, guarda cosa più per te. Vabbè? Ho capito. Ho capito. Vieni qui, bestiaccia. Ecco fatto. Grazie. Di niente. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh... Oh... Grazie per la visione!